Quando il cinema incontra la famiglia. È molto di più di un titolo indovinato questo per una rassegna di pellicole. È davvero la realtà che raccontano appunto i cinque film che vengono proposti al Centro Culturale San Carlo al Corso dall'Associazione Cattolica Esercenti Cinema di Milano in collaborazione con la Diocesi e la Fondazione Famiglia 2012. A partire dalla prima serata con American Life, storia tenera e a tratti estruggente di due trentenni in attesa di un bimbo che vivono un viaggio non solo completo ma ideale per decidere dove far nascere e crescere il loro figlio. La pellicola è di Sam Mendes del 2009, il regista Oscar per American Beauty ed è stata presentata da Giacomo Poretti che invita, come nello spot Film Family 2012, a vedere un film insieme, così in famiglia. Il viaggio lo fanno per cercare di capire dove è più adatto il luogo per far crescere il loro figlio. Prima pensano le persone, il luogo è secondario ma alla fine sono costretti a girare un po' tutta l'America per scoprire dove farlo nascere questo figlio. Infatti il titolo del film americano è... E' away we go, ce ne andiamo via. Ce ne andiamo via, no preferiamo un altro luogo. I film sono molto diversi, il percorso proposto in questo breve ciclo sono di 5, in realtà la proposta che è stata fatta sono di più di 10 titoli per le sale, quindi è già una parte di un'offerta più ampia. I tagli, gli sguardi sono diversi, le sensibilità, le aree culturali di riferimento oppure c'è un materiale critico ricchissimo che è stato preparato proprio per accompagnare la visione del film e fare da ponte anche con i momenti di catechesi che poi ogni comunità si è in qualche modo creata in base alla propria tipologia, al proprio percorso, alle proprie possibilità. E questo come gli altri quattro titoli per scendere nelle profondità e nelle pieghe della famiglia o famiglie di oggi, con film che hanno fatto il giro del mondo o piccole perle che mettono in video, girate da Giovanni Calamari, proprio per Femmili 2012, le famiglie normalmente eccezionali. Di casa nostra, come Mauro e Marta, quattro figli, uno in affido, una dotata, uno naturale e una nel cosiddetto sostegno leggero. Si discuteranno questi film poi in sede di Sala della Comunità, veramente all'interno del territorio? Sì, sì, c'è già un'azione in atto in cui la forma del cineforum in qualche modo è quella molto vicina a noi, quindi la presentazione, il materiale critico, la visione condivisa del film in una sala cinematografica, possibilmente noi ne abbiamo tante di Sala della Comunità nella nostra diocesi, sono una grande risorsa anche in questo caso. E poi una guida e un confronto finale dopo la visione del film. Questo format che proponiamo qui è quanto di più consolidato ci sia e quanto di più condiviso avviene all'interno delle nostre sale della comunità. Insomma, ma ha pensato allo spettacolo che farà per il Cardinale Scolo o no? Noi con i miei soci lo stiamo scrivendo, per cui noi lo inviteremo in autunno. Speriamo che garantisca quello che ho promesso.